Non mi arrendo, no, non mi arrendo. Io voglio fare chiarezza perché non ci sia più un'Ilegnia Cavallini che subisca tutto quello che ha subito lei. Cristina Fioretti, la mamma di Legna, la giovane morta il 27 dicembre 2021 all'ospedale San Donato di Arezzo dopo essere entrata in pronto soccorso il giorno precedente con forti dolori addominali, non si arrende. Ha passato una grossa agonia. Io l'ho sentita, io pensavo che stava male perché stava male tante ore. Non credevo che era così grave. La 28enne morì dopo ore di agonia per la conseguenza di una particolare patologia, il megacolon tossico, asportato poi perché in necrosi. La cosa principale del megacolon tossico è arrivare il prima possibile. Quindi se passano nove ore non è che gli fa bene. Io non voglio dire che sicuramente al 100% non moriva, però nemmeno sicuramente al 100% moriva. La famiglia aveva chiesto di fare piena luce sulla vicenda. Nel maggio 2022 aveva così presentato denuncia contro ignoti per responsabilità colposa per morte in ambito sanitario e abbandono di persone incapaci. La procura aveva aperto un fascicolo ed adesso ha chiesto l'archiviazione. Ci rimani malissimo, specie quando arriva dopo un anno e mezzo. La richiesta poggia sulla perizia medico-legale nella quale si riconosce che le contestazioni mosse dai familiari della giovane avrebbero una base, non riscontrando però un nesso causale tra ritardi e morte. All'inizio dice che sì, c'è stato due ritardi. Uno sulla richiesta dell'attacco e uno sulla richiesta della visita chirurgica. Però questo dice che non influisce sulla morte, ma questo chi lo può dire? La famiglia sta già valutando richiesta di opposizione, ma intanto la vicenda ha varcato le porte del Parlamento con l'onorevole Letizia Giorgianni che ha chiesto chiarimenti direttamente al Ministero della Salute. Lei è passata subito un codice rosso, dal codice verde. L'hanno operata alle 11.35, alle 23.35, dalle 13 che era entrata. Cristina non ha potuto rivedere la figlia nei suoi ultimi attimi di vita. Alle 10.38 era al telefono con il chirurgo di guardia. C'erano già tre rianimatori lì e lei lo sapeva e non me l'ha detto. Perché lei mi poteva dire signora venga subito qua. Questo mi poteva dire. Io sarei stata con lei. Lei avrebbe visto la faccia della sua mamma almeno. Io l'avrei vista cosciente. Anche questo mi ha negato.